Il Movimento Attiviamo Caulonia ha voluto dire la sua sulla situazione avvenuta la scorsa settimana per il maltempo che ha colpito la costa ionica e vuole evidenziare la necessità di un tempestivo intervento al fine di scongiurare situazioni di danni irreparabili nei confronti degli utenti della strada, ricordando che i cittadini sono prima di tutto contribuenti fiscali degli organi tenuti a garantire la dovuta sicurezza. Infatti, dalla precipitazione del 23 gennaio scorso è ormai trascorso una settimana, ma i possumi dell'evento sono tutti presenti e sotto i nostri occhi quotidianamente. Tale evento atmosferico ha colpito la costa ionica e in particolare il nostro comune, Caulonia, che è un paese ormai abbandonato dove la manutenzione ordinaria è diventata un miraggio, per non parlare di quella straordinaria. Oggi le strade provinciali e comunali sono diventate impraticabili e in particolare quelle percorse quotidianamente dagli abitanti delle frazioni di Campoli, Calatria, Ursini e San Nicola. Molte le frane che sono tutte ancora sull'asfalto e che costringono i pendolari a fare slalom con i propri mezzi, tra gli accumuli di terra, mettendo in pericolo la propria incolumità personale e quella degli altri. Nello specifico hanno indicato la strada che collega la contrada a Belvedere con la frazione Carubara, che è completamente chiusa da una settimana a causa di una parte di vigneto franata sull'asfalto, la strada provinciale 89 che collega le frazioni di Ursini, Campoli, San Nicola e Calatria, Caulonia Marina, dove vi sono più frane che costringono i veicoli al transito alternato. In particolare si segnalano quelle che si trovano all'intersezione con la strada provinciale 88, poi la strada è completamente dissestata. E ancora sulla strada provinciale 90, che conduce sempre a Caulonia Centro, ci sono altre frane. E in particolar modo il transito alternato sul ponte Allaro, ma questa è un'altra storia. Infine la strada che porta a San Nicola, costeggiando l'Allaro, è in parte stata erosa dalle acque della fiumara. Ciò succede sistematicamente ogni qual volta la fiumara si ingrossa, del resto è stata costruita proprio attaccata all'alvio fluviale senza predisporre alcuna protezione. Tutte le cunette laterali delle strade erano e sono rimaste ricoperte da fango e detriti e le acque si riversano tutte sull'asfalto, provocando altri danni e minacce alla sicurezza. È intollerabile che ogni qual volta piova, le strade non sono nelle condizioni strutturali per poter garantire il transito sicuro agli utenti.